Inaugurato ufficialmente il Temporary Office, è presentata la Carolina Zanni Melanoma Foundation, la fondazione dal carattere internazionale, costituita alla fine dello scorso anno da Patrizia Undelli, nel nome del ricordo della figlia Carolina, scomparsa a causa di un melanoma nel 2017 a solo 27 anni. Supportare lo sviluppo della ricerca scientifica per la cura del melanoma e contribuire ad alleviare le sofferenze fisica e psicologica degli ammalati e delle loro famiglie. Ecco lo scopo della Carolina Zanni Melanoma Foundation. L'ambizioso obiettivo a lungo termine è quello di vincere il melanoma. Nel giorno di quello che sarebbe stato il 31esimo compleanno di Carolina, la madre inaugura il Temporary Office in Corsia del Gambaro a Brescia. Allora oggi inauguriamo questa sede, questo ufficio che è la prima manifestazione tangibile delle attività di questa fondazione che è stata costituita il 30 di ottobre del 2020 in memoria di Carolina Zanni che è una giovane ragazza che proprio oggi avrebbe compiuto 31 anni e che è scomparsa a causa di un melanoma. La madre, la signora Patrizia Ondelli, ha voluto creare questa fondazione per una serie di scopi che vanno tutti a lavorare per cercare di combattere il melanoma e fare in modo che tragedie come quelle di Carolina non accadano più. Questo è il lavoro che farà la fondazione Carolina Zanni e oggi iniziamo con questo primo segno tangibile. La fondazione avrà un taglio assolutamente internazionale, quindi abbiamo un comitato scientifico internazionale fatto dai più grandi esperti che al mondo in questo momento stanno lavorando sul tema del melanoma. Abbiamo intenzione di lavorare su vari fronti, compreso quello di aiutare la ricerca scientifica negli ospedali bresciani ma non solo, anche a livello punto nazionale e internazionale. Abbiamo dei progetti per aiutare gli ammalati e le loro famiglie a sopportare i problemi e i drammi che derivano dalla malattia. Vogliamo aiutare gli ospedali stessi a migliorare le cure, quindi dotandoli di attrezzature all'avanguardia, e fare in modo che possano curare al meglio tutte queste persone che hanno problemi di melanoma e promuovere anche attività di screening sul territorio per fare in modo che la prevenzione, che è poi l'unica vera arma che oggi abbiamo, possa essere utilizzata al meglio. Allora Carolina oggi è il suo compleanno, avrebbe compiuto 31 anni e purtroppo un melanoma se l'è portata via cinque anni fa. Avevo promesso a lei che avrei fatto qualcosa per il melanoma e quindi questa fondazione nasce per lei, nasce per aiutare le persone che si trovano anche, come mi sono trovata io, insomma con mia figlia, combattendo contro un male sconosciuto, un male che sembra un niente perché nasce tutto da un neo e che poi invece diventa devastante. Avevo promesso a lei che facevo questa cosa, oggi viene inaugurata la fondazione di Carolina, io sono molto felice di questa cosa e sono sicura che faremo grandi cose.